Gioca Civitanova-Perugia, gara 4 della finale. Scudetto di volley maschile. Maurizio Colantoni. La sfida dei campioni, dove il fattore campo ha sempre fatto la differenza nella serie. Perugia arriva a casa di Civitanova in gara 4 con il match point. Scudetto sarà ancora una gara infocata. La Lube dovrà vincere per portare la finale all'ultima sfida. La squadra Umbra invece di Bernardi sa però di poter contare su un gruppo e un fuoriclasse. Leon che puntano a confermare il tricolore. Noi ci proveremo, consapevoli che il livello di gioco della Lube in casa è un livello molto alto. Ma noi ci vogliamo provare, è il nostro primo match point e ci proveremo in tutti i modi. Dadoani non vince trasferta nei play-off Perugia. Attenzione a Civitanova, lo dice Filippo Lanza. Civitanova gioca molto bene in casa loro. Ci ha dimostrato in gara 2 di essere molto efficace dai 9 metri. Di giocare una pallavolo spettacolare. Ovvio che il pubblico gli supporta e gli dà quella spinta in più che serve a campioni del genere che non hanno bisogno di presentazione, di dimostrare che il campo lo sanno reggere e ci ha messo in difficoltà. Quindi quello che ci aspetta sarà una partita e una battaglia lunghissima. All'Euro, Suole e Forum sarà tutto esaurito la gara della vita per riaprire una sfida bella senza fine. Gara 4, play-off finale, Scudetto. Eccolo qui l'appuntamento. Grazie mille alla grafica. 17.50 si parte a quell'ora per non perdere assolutamente. Civitanova, Perugia, su Rai Sport+, HD. E con una doppietta...